Sentiamo un altro brano? Oh, ma perché no? Perché no? Non mi fa rabbio, perché no? C'è che ci siamo, quasi quasi C'è che ci siamo, quasi quasi Eh, che ne pensi? E la sorpresa? Questa no? Ah, già che ci siamo, come è che stai a vedere? Che cazzo, va bene in un valore E mi dici no? No, quello presentato Allora, un saluto agli amici di Broadcast Italia Scusate se io, se... Non è vero, no? Sto bene, ma... Sto benissimo, è fonico, è fonico e fa il lavoro su... Ah, scusa, no, ciao Andiamo a sentire un altro? E perché no? No, non così triste No, non così triste, non così triste Non così triste Voi dovete sapere Che cammini verso me Dall'altra parte della strada Attenzione! Fonico, ritorna in te, è fonico Non lo vuoi fare a posto? No, è così, è perché dentro di me ho dovuto fare tutto questo E tu mi è ferito Questa è la cosa che... Questa è la... Una è morta di infarto L'altra è sotto la marina No, non ce l'ha E poi se muovetevi, scusa, non scrivo più Il problema è che il Fonico ha fatto appena prima di noi un programma in cui si beveva molto Perché c'era l'esperto di cocktail che praticamente ha offerto cocktail a tutto a sfera a tutti i fatti Quindi è ubriaco, fratice E' normale che succedano a sfera Radio vino? E' peggio di Daniel Ah, una roba da passi Senti, ti è passata la... No, sono Fabio Casale e è quello dei Solfamitici www.myspace.com slash solfamitici Guai a sbagliare Solfamitici Che vuoto ripete? Tu, hai capito? Laggiù? Oh! Quella è Solfamitici Quanto vuole farlo durare sto coso? Solfamitici Ma guarda, non capite, ma come è possibile? Ma che me ne parlo? Torniamo, ma di cosa stiamo parlando? Il programma Il gruppo è di Solfamitici Solfamitici Non Solfamitici Eh, pure questa è un'altra cosa perché lì questa parola la devo capire, non la devo capire Io te l'ho ripetuto Te l'ho ripetuto 70 volte Qua ti faccio riascoltare Ti hai rotto qualcuno che ne vado Torniamo a loro Torniamo a questo mitico gruppo Sì, perché Solfamitici Siamo i mitici del Solfamitici Eccolo E diciamola così Oltre quelle due note noi